Ordigni esplosivi artigianali dal potenziale offensivo micidiale. I carabinieri di Canusa di Puglia ne hanno ritrovati dieci nascosti nell'appartamento di una 29enne già nota alle forze dell'ordine. La pericolosità del materiale rinvenuto ha richiesto il supporto degli artificieri antisabotaggio del comando provinciale di Bari, che prima di intervenire hanno isolato e messo in sicurezza la zona del ritrovamento. I militari non escludono che gli ordigni fossero stati preparati per compiere attentati dinamitardi. La 29enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari. I controlli dei carabinieri sono stati estisi all'intero territorio comunale. Due giovani di 20 e 25 anni sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari li hanno trovati in possesso di 28 dosi di marijuana, una di cocaina e di 1134 euro in contanti. Il 20enne è finito ai domiciliari, mentre per il 25enne si sono aperte le porte del carcere di Trani. I carabinieri hanno ispezionato anche alcune aziende agricole del territorio. In una di esse sono stati scoperti tre lavoratori in nero ed una 48enne senza regolare contratto che percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza e che per questo motivo è stata denunciata per truffa aggravata ai danni dello Stato. Il titolare dell'azienda agricola dovrà invece pagare una sanzione di 9.000 euro.